Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo recap giornaliero che da oggi verranno fatti qua su YouTube Quindi mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi Partiamo subito con il recap di oggi Per chi non lo sapesse questi recap vengono fatti per cercare di darvi del valore in più Ma soprattutto anche per farvi vedere quello che noi facciamo durante le live operative Perché nel nostro percorso, che ovviamente se non lo sapete è entrata nel Discord così potete guardare tutto Nel nostro percorso noi facciamo delle live operative dalle 9 alle 11, dalle 13 e 30 alle 16 Allora, partiamo subito con oggi Allora, partiamo con un discorso di range Ok, che se non avete visto vi lascio il link qua sotto per guardare il corso che avevo fatto gratuito sulla struttura di mercato Stamattina noi eravamo all'interno di questo range qua Ok, tutto questo range, che era un range ribassista Nel momento in cui noi l'abbiamo rotto, stamattina, siamo entrati in un range rialzista Quindi il nostro prossimo range da andare a prendere era questo Ok, che è quello che abbiamo raggiunto adesso Quindi adesso sto guardando se posso effettivamente fare qualcosa oppure no Ovviamente vi lascio qua in sovraimpressione tutte le nostre operazioni che abbiamo fatto oggi Che è solo questa Però ve le lascio con lo screen di MetaTrader Vi ricordo che nei risultati vedrete esattamente che tantissimi abbiamo fatto la stessa identica operazione Perché noi diamo oggettività a mercato Benissimo Andiamo avanti con il nostro discorso Quindi nel momento in cui siamo entrati nel range rialzista Entramo automaticamente in una zona di sell La nostra zona di sell era per me tutta questa zona qua Quindi da questo punto che abbiamo rotto fino a questo punto qua Era tutta zona di sell Sono entrato diretto Sono entrato diretto a mercato Vi faccio vedere anche la candela M1 più o meno che sono entrato Sono voluto entrare direttamente su questa candela qua Che era una candela abbastanza piena rialzista Purtroppo E poi si è chiusa per mia fortuna a ribasso E poi effettivamente è andata giù Vedrete che nello screen saranno due posizioni Se ti è piaciuto questo video Mi raccomando fammelo sapere con un mi piace Perché quello che stiamo facendo qui è una cosa in più Che voglio cercare di rendere partecipi di quello che facciamo durante il live E cercare di spiegarvi in modo più concreto Quelli che sono state le nostre operazioni Quindi darvi del valore aggiuntivo Quindi se ti è piaciuto mi raccomando fammelo sapere con un bel like E con un bel commento Ci vediamo domani con il prossimo recap giornaliero Da 10 lotti Per il semplice fatto che Le mie poche prop che sono rimaste nel conto Scusate con metatrader Sono principalmente due Di cui uno opera Uno opero sempre con 10 lotti L'altro opero sempre con 20 Quindi oggi avevo deciso di operare su quella da 20 E quindi ero andato a aprire due posizioni Poi Il momento in cui lui Torniamo di qua Non mi va a bucare Quello che per me era un minimo Che volevo prendere Era quello delle 11 Perché noi ci troviamo in questo range principale Da questo punto a questo punto Ok E quindi la nostra interna era questo punto O questo punto qua Perché questo qua era il mio M5 Quindi da qua a qua Era il mio M5 Quindi io volevo che effettivamente il prezzo Mi ritornasse a prendere direttamente il mio M5 Cosa che purtroppo non ha fatto Però allo stesso tempo è giusto Perché ricordiamoci che noi come abbiamo detto prima Siamo in un range realzista Quindi a lui Da praticamente qua sotto Fino a qua sotto È una zona per andare buy Io Volevo andare buy nel momento in cui Mi creava qualcosa Ma dato che il prezzo non mi ha creato nulla Perché non mi ha rotto nessun massimo Non mi ha creato zero oggi Io il buy non me lo sono voluto prendere Invece alcuni miei studenti Se lo sono presi da qua sotto Io purtroppo qua In quel momento non ero particolarmente attento Quindi Non ho fatto niente di che Dov'è che era magari più corretto prendersi un buy Una volta che il prezzo mi aveva creato strutture rialziste Questa è stata la nostra conferma Scusate questo qua È stata la nostra conferma della struttura rialzista Allora qua il prezzo doveva iniziare a rispettare molto di più la liquidità interna Infatti cosa che è successo fino a questo punto qua Da questo punto in qua Io adesso mi aspetto che il prezzo debba scendere al di sotto di questo minimo Se scende probabilmente al di sotto di questo minimo Allora noi possiamo aspettarci che possa andare a ribasso Ma solo se scende qua sotto Perché il nostro range in cui siamo dentro in questo momento è questo qua Altro discorso Altrettanto importante è questo Ovviamente Bisognerà vedere anche come si andrà a sviluppare questa notte Perché questa notte? Per il semplice fatto che nel momento in cui il prezzo mi rimane All'interno magari di questo range qua Probabilmente domani Dato che non si è completata la delivery durante la notte Il prezzo dovrà di nuovo andare a sbilanciarmi E magari poi riscendere Questo è molto importante Altra cosa che io ho tenuto conto per fare Per cui volevo fare un long oggi Era per il semplice fatto che Sul MyFixbook, sul Sentiment Tutti erano ribassisti Quindi un po' Già per aprire questa operazione Già un po' mi è scattata un po' la Un po' la presa di coscienza di non farla Invece poi è andata tranquilla Quindi per quanto riguarda Questo recap giornaliero è tutto Ovviamente vi consiglio di iscrivervi nel canale Per rimanere sempre aggiornati Perché ogni giorno uscirà un recap giornaliero Quindi per questo video è tutto E vi auguro una piacevole serata E vi auguro una piccola Grazie a tutti.